Sappiate che comunque mancano funzionalità avanzate che invece sono presenti nel Vantage V2, sappiate però che queste funzionalità tre anni fa non erano nemmeno presenti nei prodotti premium. Oggi Polar ha lanciato il nuovo Vantage M2 che è quello orologio mid-range che va a sostituire il Polar M che invece era stato già lanciato nel 2018. Contrariamente al solito, lo dico con un po' di orgoglio, ho avuto a disposizione il Polar Vantage M2 già da più di una settimana, ci ho corso oltre 150 km e quindi questa è la mia prima impressione e recensione, non è una recensione dettagliata, sappiate comunque che questo orologio va a coprire un gap su una fascia di mercato che finora non era coperta perché i prodotti equivalenti costavano molto molto di più. Prima di vedere cosa ne penso sappiate che nella press conference che Polar ha effettuato qualche giorno fa è stato presentato anche il fatto che nelle prossime settimane saranno lanciate nuove funzioni dei Polar Vantage V2 e GritX recensioni di cui vi allego un dettaglio qua sopra nuove funzioni che permetteranno agli utenti Polar Vantage V2 di avere ulteriori funzioni a disposizione. In particolare Polar integrerà nuove funzioni attraverso aggiornamenti software, sul GritX la dashboard con riassunto settimanale già presente sul Vantage V2, la possibilità di utilizzarlo come trasmettitore di frequenza cardiaca verso device compatibili e i controlli in musica già presenti sugli altri device, mentre sul Polar Vantage V2 sarà aggiunta la possibilità di utilizzarlo come trasmettitore di frequenza cardiaca verso device compatibili. Sappiate invece che le funzioni che saranno aggiunte al GritX sono già disponibili sul Polar Vantage V2. Tra l'altro Polar ha anche lanciato un nuovo fitness watch pensato soprattutto per Style che si chiama Ignite 2, prodotto che ha tutto quello che si può desiderare da un fitness watch, non l'ho ancora provato ma sappiate che ha funzioni fitness e può essere un regalo per chi inizia a correre o per chi in questo momento confinato a casa volesse iniziare dell'attività fitness. Come ho già detto ho anche pensato per utilizzo Style, sappiate che pesa soltanto 35 grammi e addirittura un braccialetto Swarovski che eventualmente potrebbe permettere alla vostra compagna di sfoggiarlo durante gli aperitivi che speriamo ci saranno nei prossimi mesi. Cosa ne penso di questo Polar Vantage M2? Sappiate che come ho visto nella platea dei podisti amatori ognuno cambia un GPS soltanto dopo 4-5 anni, di conseguenza se voi siete esperti Polar e avete già a disposizione il Vantage V2 oppure il GritX ovviamente non ve lo consiglio, mentre se avete utilizzato il Polar M oppure addirittura dei prodotti precedenti probabilmente questo è uno strumento a vostra disposizione che vi consentirà di utilizzare nuove funzioni, vediamo quali sono, nel frattempo è arrivato il mio mitico coniglio, vediamo quali sono le funzioni e a chi sono adatte. In generale questo Sport Watch Vantage M2 è un prodotto che consente di utilizzare l'ultima tecnologia a prezzo contenuto, offre allenamenti personalizzati, una durata della batteria fino a 30 ore in modalità nell'amento e l'analisi del recupero che invece mancava nel Vantage M. In particolar modo per noi podisti amatori è stato aggiunto il Running Program che è uno strumento che consente di avere una sorta tra virgolette di coach e quindi di programma adattivo che vi permette di determinare se non avete il coach quali allenamenti effettuare durante la settimana. Tra l'altro per chi non lo sapesse non è cambiato molto a livello di funzioni e funzionalità perché è lo stesso menu, sono le stesse funzioni, la ricerca del satellite è molto molto rapida, la scelta delle funzioni è sempre la solita e soprattutto le ripetute si configurano nello stesso modo degli altri prodotti, tutte queste funzioni che sono davvero molto intuitive. Poi è chiaro che è sempre una questione di abitudine rispetto al Porsche Vantage M questo Vantage M2 offre anche le funzionalità per il triathlon e il multisport. Come già vi ho ripetuto potrebbe essere adatto a chi in effetti non vuole spendere molti soldi, costa 299 euro di listino ma al tempo stesso avere quasi tutte le funzioni a disposizione del podista evoluto. È stato tra l'altro implementato anche il Training Load Pro che è uno strumento, una funzione che vi consente di misurare in maniera dettagliata il carico di allenamento, funzione che analizza il carico di lavoro in modo completo e dettagliato, suddiviso in carico muscolare, cardiaco e percepito. Ad ogni sessione di lavoro monitora il carico di lavoro, misura il bilanciamento tra sforzo e tolleranza nel lungo periodo e aiuta soprattutto a riconoscere i propri limiti e nel caso in cui andaste in overtraining vi consiglia di rallentare la vostra attività quotidiana. È a disposizione anche l'analisi del sonno e del recupero. La prima vi consente di capire se avete dormito in maniera precisa, mentre la seconda vi spiega come avete recuperato durante la notte se siete in grado in effetti di effettuare un allenamento intenso il giorno successivo. Ne avevamo già parlato nella recensione del Vantage V2. Sappiate però che questo Vantage M pesa 46 grammi contro i 52 del Vantage V2 e di conseguenza è sicuramente molto più utilizzabile prima di andare a dormire e può essere indossato facilmente da tutti i podistiamatori. Tra l'altro sappiate che confrontandolo con Aura che è un anello che misura solamente la durata del sonno i dati sono fondamentalmente comparabili almeno sulla settimana di utilizzo che ne ho fatto io. È a disposizione anche il FitSpark e il riassunto settimanale. Il primo consente una guida personalizzata all'allenamento basata su recupero, livello di preparazione storico degli allenamenti mentre la schermata del riepilogo settimanale è veramente molto utile perché in un solo colpo d'occhio riuscirete a capire come quanto vi siete allenati e quanti chilometri avete fatto e vi fornirà alcune indicazioni che invece richiedevano nel passato l'utilizzo del computer. Una delle cose di cui Polar è maggiormente orgogliosa, Polar ha citato il fatto che più di 5.000 studi scientifici hanno parlato e citato l'azienda finlandese. Vi ricordate che Polar raccontava del pulsante rosso e questo tra l'altro rappresenta l'accuratezza dell'utilizzo dello strumento. Sappiate che a livello di GPS ma anche di rilevazione cardio entrambe sono abbastanza precise dico abbastanza perché soprattutto in situazioni complicate come allenamenti intensi magari svolte a temperatura particolari e al tempo stesso magari non vestendo correttamente l'orologio ci potrebbero essere problemi ma in generale quello che ho verificato e notato è che non ci sono sostanzialmente variazioni rispetto alla fascia cardio o alla fascia Verity Sense che testeremo nei prossimi giorni. Sappiate però che se più correte intensamente meglio sarebbe utilizzare questi due strumenti al posto del cardio da pulso. Sono state tra l'altro aggiunte anche le funzioni smart che significa il collegamento con il vostro smartphone che vi consente di vedere i dati relativi al meteo, di utilizzare la musica come già detto ancora non presente sul Grid X ma che sarà aggiunta nei prossimi mesi e infine ovviamente anche push da smartphone nel caso in cui vorreste vedere delle notifiche che ovviamente potreste esservi persi guardando lo smartphone. Come già detto però serve avere il telefono vicino per ascoltare musica oppure per avere queste notifiche perché questo orologio non è indipendente dallo smartphone. È stato attivato così come era successo anche per il Vantage V2 il Fuel Wise che è un assistente personale al posto che aiuta a creare un corretto piano di integrazione ed idratazione durante il percorso ricorda quando rientegarsi. Mostra inoltre il consumo calorico dettagliato tra macronutrienti, carboidrati, grassi e proteine. Sappiate ovviamente che questa cosa funzionerà a condizione che la misurazione del cardio sia esattamente corretta. Come al solito tra qualche settimana farò una recensione dettagliata ma sappiate che parlerò anche del confronto tra i vari dispositivi Polar a chi adatto questo prodotto secondo me è adatto a tutte le persone che hanno un GPS vecchiotto di 4-5 anni e che invece vogliono utilizzare le nuove tecnologie, i nuovi dati a disposizione e non vogliono al tempo stesso spendere molti soldi per un GPS. Questo Polar Vantage M2 è un ottimo prodotto buon compromesso a un prezzo di 299 euro di listino che vi consente di avere a disposizione uno strumento completo per monitorare il vostro allenamento il carico dell'allenamento e anche il riposo. Sappiate che non esiste un prodotto simile a questo prezzo almeno nella casa Polar. Avevo già parlato del concetto di trade off in un video precedente. Sappiate che comunque mancano funzionalità avanzate che invece sono presenti nel Vantage V2. Sappiate però che queste funzionalità tre anni fa non erano nemmeno presenti nei prodotti premium. Manca in effetti la potenza da posto, il test orto statico alla mattina, se non i test per i running oltre al fatto che questo prodotto non è cartografico così come non lo era nemmeno il Vantage V2 ma in questo caso non c'è nemmeno l'app Komoot che quindi non vi consentirà di seguire un tracciato ma al tempo stesso comunque sappiate che il famoso back to start e ritorno alla partenza è comunque attivabile e funziona davvero benissimo. Sappiate infine che il prodotto sarà disponibile sul sito Polar a partire dalla prossima settimana e invece nei negozi a partire dal 7 aprile e con ciò vado a bermi un tè perché sono le 4 del pomeriggio ci vediamo alla prossima, stay strong, keep running, ciao!